Una Bibbia in ogni famiglia. Una Bibbia in ogni famiglia. Ma padre, noi ne abbiamo due, ne abbiamo tre, ma dove le avete nascoste? Eh, non è per... La Bibbia non è per metterla in uno scaffale, ma per tenerla a portata di mano, per leggerla spesso, ogni giorno, sia individualmente che insieme, marito e moglie, genitori e figli, magari la sera, specialmente la domenica, così la famiglia cresca, cammini con la luce e la forza della parola di Dio. Così Papa Francesco, prima della preghiera dell'Angeus, ha spiegato ai fedeli il senso dell'iniziativa di distribuzione gratuita della Bibbia in Piazza San Pietro e in tanti altri luoghi promossa dai Paolini in occasione del centenario della loro fondazione, da parte del Beato Giovanni Alberione, grande apostolo della comunicazione. Iniziativa voluta proprio nel giorno di apertura dell'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, sul tema le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. I padri sinodali, provenienti da tutto il mondo, ha ricordato il Papa, insieme con me vivranno due intense settimane di ascolto e confronto. Dopo la preghiera, il Pontefice ha ricordato la beatificazione, ieri negli Stati Uniti, di Suor Maria Teresa Demianovic, delle Suore della Carità di Santa Elisabetta, che condusse un'intensa vita spirituale. E poi la giornata per l'abbattimento delle barriere architettoniche, incoraggiando quanti si adoperano per garantire pari opportunità di vita per tutti, indipendentemente dalle condizioni fisiche di ogni individuo e auspicando una sempre maggiore attenzione di istituzioni e cittadini a questo importante obiettivo sociale.